Gentilissime amiche, gentilissimi amici, il più cordiale e ben connessi giunge a tutti quanti voi da parte di Roberto De Angelis. Stavolta M91 qui, si reca in Serie C, Girono C, ovvero si a Palermo, quindi M91 qui Palermo. Era una partita molto importante, quella che si giocava a Francavilla. Il risultato finale parla di Francavilla 1, Palermo 3, vittoria al rimonto di Rosa Nero e settimo posto centrato. Praticamente missione compiuta per il Palermo perché battendo la Virtus Francavilla per 3-1 in trasferta ha centrato il settimo posto che vuol dire che significa giungare in casa al Parvera la prima partita dei play-off, domenica prossima contro il Teramo. A fare un favore ai Rosa Nero c'è stato il Catania, pensando proprio per il Catania che ha bloccato il Foggia sul pareggio e permette alla squadra Rosa Nero allenata da Giacomo Filippi di scavalcare proprio i pugliesi che scivolano al nono posto, superati anche dal Teramo. All'inizio la serata per il Palermo era iniziata male con il vantaggio della Virtus Francavilla, firmato da Nunzella. Poi Valente, autore di Notopietta e Silipo, hanno rimesso le cose a posto per il Rosa Nero. Vediamo un po' quella che è la classifica della Serie C, Girono e C. Allora, primo posto Ternana, secondo Catanzaro, terzo Avellino, quarto Bari, quinto Juve Stabia, sesta classificata Catania e settima Palermo. Queste sette squadre andranno a play-off e vedremo che cosa accadrà. Per il momento un gradino alla volta, il Palermo è riuscito a centrare i play-off e ve lo ricordo, domenica prossima giocherà al Barbera di Palermo la prima partita dei play-off contro il Teramo. Per il momento è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento. Torre di controllo, possiamo partire? Tutto pronto, comandante. E per l'energia? Abbiamo Carnidin Plus. Allora si vola. Fai decollare la tua energia con Carnidin Plus Bustine. Con Carnitina, un mix di vitamine e minerali contro la stanchezza fisica e mentale. E per averlo sempre con te, prova anche le nuove compresse masticabili, pratiche e senza bisogno d'acqua. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura, collata da questa armonia. Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora, con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.